e direi che si può partire ragazzi qua per superare i 20 gradi bisogna aspettare ancora un bel po per cui ci facciamo andare bene anche queste piccole uscite non tanto allegre ma almeno ci sgranchiamo un po anche perché sono abbastanza arrugginito ma proprio abbastanza non c'è neanche il sole qua tutto curva all'ombra meglio stare all'occhio le gomme fanno fatica ad andare in temperature allora va bene così ragazzi non parlerò tanto perché mi piace stare concentrato quindi lascio parlare le immagini poi ditemelo dopo che faccio la gara frega una mazza non c'è la gara non c'è neanche la gara no c'è si un asfalto così freddo fa davvero paura anche sport l'asfalto quindi non vale la pena rischiare ma vale la pena aspettare ancora un mese ma sette e mezzo per tirare un mese ma sette e mezzo un mese ma sette e mezzo dove sono all'ombra fanno paura qua si fa un piccolo saltello questa in estate è una curva stupenda in estate però come vedete non sono il solo che ho già avuto questa idea qua non ce la facciamo più dobbiamo voglia di girare la facciamo più di solito ci si ferma o qui eh qualcuno c'è oppure più su dove adesso andremo ragazzi posso assicurare che io sto andando su e c'è un freddo assassino ma veramente assassino quindi filarmi proprio a zero ma proprio a zero adesso sono tutte curve che in estate vi fanno godere ma godere 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 come vedete qui c'è la neve ai bordi ma Grazie a tutti Quindi ragazzi io direi che mi posso anche fermare qua E andare giù dove c'è la prima siesta Perché andare a rischiare io non ne ho voglia, sono sincero Grazie a tutti Grazie a tutti